A Roma, Lia amava molto leggere libri per bambini e inventare storie, ed era anche molto brava a cantare. Lia, vuoi fare questi compiti? Sì, sì, ora li faccio. Basta, ora te la spiego. No, 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 aspetta, puoi finire la canzone. No? No. Fra poco arriva papà. Fai i compiti e alla svelta. E va bene, allora vuol dire che la finisco da me. Tanto la so. Piccole stelle che brillate a sera, parlate voi d'amore a chi mi ha preso il cuore. E che ce vuole fare, signora? Lì è pure più brava della radio.